Pace fatta nel centrodestra, nomina ratificata dopo il primo incontro che è avvenuto nei giorni scorsi con il governatore Toma e quello con i partiti del centrodestra. Arriva l'ufficialità, la candidata a sindaco, Maria Domenica D'Alessandro, ha messo tutti d'accordo. L'avvocato originario di Dunonia è il nome della sintesi, l'ultima chance della Lega al posto di Alberto Tramontano, professore di Campobasso che era stato designato da Matteo Salvini nel summit di Arcore con Berlusconi e Giorgia Meloni, ma che non ha convinto tutte le anime dell'accolezione. E così dopo tre settimane di tira e molla, veleni e accuse, fino ad ipotizzare fin anche una corsa verso lo scranno più alto di Palazzo San Giorgio a due strade all'interno del centrodestra, martedì mattina tutti i partiti presenteranno ufficialmente alla città la D'Alessandro, quale nome univoco su cui tutti sono d'accordo. Coordinatrice cittadina della Lega, fresca della scuola di formazione a Milano, è lei la figura che rappresenta la sintesi capace di unire la coalizione, ha detto anche Alberto Tramontano. Intanto c'è da dire che il primo candidato sindaco donna proposto dal centrodestra per la città di Campobasso, Maria Domenica D'Alessandro, sarà presentata in una conferenza stampa in programma domani alle 11 all'Hotel Rinascimento. Saranno presenti i coordinatori delle forze politiche che sostengono la sua corsa a Palazzo San Giorgio.